E se Bruce Wayne, invece di diventare Batman dopo l'uccisione dei suoi genitori, fosse stato ricoverato al manicomio di Arkham? Andiamo a rispondere a questa interessante teoria che è spuntata da un po' di tempo sul web, che in realtà gira da un po' di tempo, ma oggi volevo affrontare con voi l'argomento, perché l'ho trovato parecchio interessante. Infatti questa teoria ci racconta come il giovane Bruce Wayne, dopo l'uccisione dei genitori, sia stato ricoverato al manicomio di Arkham e non sia poi quindi diventato effettivamente Batman. Infatti sembrerebbe che questa teoria vorrebbe che la trasformazione di Bruce Wayne in Batman non ci sia mai stata e che sia diventato quindi l'uomo pipistrello soltanto nella sua mente, mentre era ricoverato al manicomio di Arkham per schizofrenia. Infatti al giovane Bruce Wayne, dopo la morte dei genitori, è stato diagnosticato uno stress post-traumatico, a seguito a questo quindi sviluppò uno stato di schizofrenia e per questo quindi venne ricoverato al manicomio di Arkham. Durante il suo pernottamento, se possiamo dire, il suo ricovero, divenne uno dei pazienti più problematici e che creavano più problemi di tutti, aggredendo quindi gli infermieri che stavano lì per cercare di aiutarlo e i dottori non riuscivano a curarlo. Proprio per questo creò nella sua mente un mondo immaginario in cui lui divenne l'uomo pipistrello. Quindi il Bruce Wayne ricoverato all'ospedale di Arkham divenne il Batman nella sua mente ed è qui che inizia la sua avventura come uomo pipistrello, come il cavaliero oscuro che combatte i criminali. Peccato però che i criminali che Bruce Wayne combatte nella sua mente siano appunto gli impiegati e le persone che lavorano dentro il manicomio di Arkham. Ogni personaggio quindi affrontato da Batman che noi conosciamo è frutto dell'immaginazione di Bruce che a causa appunto della sua schizofrenia ha individuato in ogni persona che cerca di aiutarlo un personaggio. Iniziamo appunto con il dottore che lo ha in cura, lo psicologo che cerca di aiutare il povero Bruce a ritornare se stesso che nella mente malata di Bruce Wayne indica come Joker. Altro esempio della mente malata di Bruce è l'individuazione di un'infermiera per la quale lui aveva una cotta assurda in Catwoman che come sappiamo i due hanno avuto spesso nei fumetti diverse volte la relazione ed è per questo magari che viene associata nera a Catwoman. Altro villain associato ai personaggi e ai lavoratori dell'Arkham Asylum è lo spaventapasseri. Questo sarebbe quindi il terapista di Bruce Wayne che lo mette di fronte alle sue più grandi paure per cercare di fargliele superare. Altro personaggio che la mente di Bruce Wayne associa a un villain e questo probabilmente è uno di quelli che mi ha fatto più morire da ridere ovvero il buon Mr. Freeze, la mente ormai malata e affetta dalla schizofrenia di Bruce Wayne accosta l'operatore che aggiusta l'aria condizionata al Mr. Freeze. Fate voi l'accostamento ma credo sia abbastanza facile. Altro accostamento interessante che riguarda uno dei villain più importanti per quanto riguarda appunto Batman è l'enigmista. La mente di Bruce Wayne accosta la voce che senta la radio durante la sua permanenza ad Arkham a quella dell'enigmista perché ogni settimana lo speaker propone agli ascoltatori un enigma diverso da dover appunto risolvere tramite una chiamata classica come si sente tutti i giorni alla radio. Concluiamo con tutti gli altri villain che Batman affronta durante le sue avventure per proteggere Gotham City che la mente di Bruce immagina. Infatti tutti gli altri villain che conosciamo accostati al Cavaliere Oscuro sono soltanto frutto della mente di Bruce Wayne che cerca così di evadere dalla sua prigionia nell'Arkham Asylum e quindi in un modo o nell'altro cercherà di distrarre la sua mente immaginando queste avventure nei panni dell'uomo pipistrello. Insomma ragazzi una teoria assurda che però potrebbe trovare del fondamento soprattutto grazie ai diversi accostamenti che sono stati fatti soprattutto ai villain principali. Come ripeto quello che più mi ha colpito è l'accostamento dell'uomo dell'aria condizionata a Mr. Freeze. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere voi con un commento se avete qualche altro accostamento interessante da fare ai villain dei Batman paragonandoli magari a persone o lavori reali. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di lasciare un commento, di mettere mi piace al video se vi è piaciuto e di seguirci sui canali social, Facebook, Instagram e YouTube. Appunto trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Ciao a tutti ragazzi da Valerio Perrone e da Ciacchiazione. Buona giornata.